E adesso torna la nostra rubrica Conoscere l'Europa e continuiamo con una serie di interviste a cui ha lavorato il nostro direttore Riccardo Galatioto. Recato, si lo ricordiamo, presso la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles per motivi giornalistici. Ai nostri microfoni oggi il parlamentare di Fratelli d'Italia è iscritto al gruppo ECR, conservatori e riformisti europei, Raffaele Stancanelli. Onorevole, venire qui a prendere coscienza, contezza di prima mano di ciò che è l'Europa e di quanto importante è per noi, soprattutto che siamo un puntino geografico non marginale, ma è brutto il termine, diciamo di periferia. Penso che sia importante che la stampa si renda conto personalmente di cosa si fa in Europa, perché dell'Europa si parla spesso e giustamente spesso in maniera negativa, perché la sentiamo lontana perché ci impone a volte delle regole che sono fuori dalla logica oppure preparano delle direttive come quella sul Natale che ci ha fatto rabbrivedire. Ma detto questo però in Europa si possono sviluppare tanti progetti al servizio del nostro territorio, quindi l'invito alla stampa a essere presente quando ci sono degli avvenimenti importanti, io penso che sia un dovere di un parlamentare europeo. Io svolgo il mio ruolo, spero bene, mettendo in collegamento il territorio con la comunità, con le direzioni, con tutte le iniziative che è possibile intraprendere per il nostro territorio. Ecco perché è positivo, quindi dobbiamo essere un argine contro le prevaricazioni di coloro i quali senza essere votati sono convinti che ci possono dettare le regole su qualsiasi argomento. Ma dobbiamo essere però aperti alle prospettive che l'Europa ci può consentire. Quando dobbiamo vincere il nostro essere arabi ancora, subendo quella dominazione importante ma che ci porta a essere isole nelle isole? Ma io non sono d'accordo sulla definizione che siamo arabi, purtroppo come ha detto all'inizio siamo una periferia dell'Europa e tante cose anche per colpa nostra non sono state fatte perché siamo rimasti in periferia. Io penso che invece dobbiamo essere concentrati al centro del Mediterraneo e quindi non più periferia e portare in Europa le ragioni del Mediterraneo che sono quelle nostre ma sono anche quelle di chi si affaccia sul Mediterraneo. Grazie a tutti.